Con 41 voti a favore, 12 contrari e 7 astenuti, l'Arsa ha approvato la norma che rindia al 26 febbraio 2017 le elezioni per gli organismi dei liberi consorsi di comuni e città metropolitane che erano già state indette per il prossimo 20 di novembre. La norma che è arrivata in aula sotto forma di emendamento al DDL sul garante per la famiglia è stata stralciata e votata come autonomo disegno di legge e norme transitorie in materia delle elezioni di area vasta. Ieri in aula già il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Salvatore Cascio, aveva detto che il motivo dell'invio è stato determinato da un problema tecnico legato ai comuni che, pur avendo lo stesso peso ponderato, avrebbero avuto un numero differente di rappresentanti negli organismi degli enti di area vasta, dal momento che alcuni sono andati al voto con la vecchia legge e altri con la nuova legge elettorale che ha ridotto i consiglieri. Di indirizzo contrario, invece, sin da subito il presidente della regione Rosario Crocetta che con un comunicato inviato in mattinata spingeva affinché rimanesse la data del 20 di novembre. Dal punto di vista politico pare che, invece, gli alleati di governo in numerose riunioni non avessero trovato la quadra uno degli elementi dirimenti Sicilia Futura che più volte ha dichiarato la necessità di andare con una lista propria, ovviamente PD e UDC avevano già confermato la lista unica secondo un'alleanza palermitana da mutuare in tutti i capoluoghi di provincia.